ciao ragazzi benvenuti a idrofoil news guardate oggi che bel pacco che mi è arrivato andiamo a vedere qual è la novità la apriamo con voi in diretta ed è la nuova barra in carbonio di groove kite boring la versione 2019 guardate la livrea in carbonio della sacca anche questa nuova andiamo ad aprire la nuova barra andiamo a vedere le novità un nuovo tipo di antisdrucciolo di grip guardate queste mezze lunette questi piccoli che sembrano buchi e tengono fissa la mano un archetto nuovo per far entrare i cavi qui dentro che non vanno fuori quando raccogliete appunto la barra a fine giornata il buco per far passare il depower allargato anche in questo caso tante tante altre novità e soprattutto una scelta massima ed ampia sulla dotazione i cavi che volete la misura che volete il tipo anche di chicken loop che può essere fatto anche con il clam clit o altre cose insomma qualsiasi tipo di personalizzazione è possibile guardate qui il sistema di rinvio per i the power groove kite boarding ve la consiglio veramente tanto bellissima la proveremo a breve è 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